Buon salve a tutti, io sono Roberta e oggi siamo qua in un nuovo video a tema magia. Oggi riprendiamo i video a tema magia. In particolare vorrei parlare dell'intento, perché credo che sia una cosa molto basilare, soprattutto agli inizi, che però si fa spesso fatica a comprendere appieno, o a cui spesso non si pensa perché sembra un concetto molto semplice. Quindi mettetevi comodi e iniziamo un po' a parlare di questa cosa. In tutti i miei video di magia dico spesso che non è importante tanto seguire la ricetta, la lettera, diciamo, bensì personalizzarla, fare in modo che ogni elemento sia in sintonia con te stesso e con il tuo potenziale magico. Dico che la magia è personale e proprio per questo quando si legge un libro di magia bisogna pensare non solo criticamente sulla veridicità delle informazioni contenute, quindi incrociare varie fonti per ottenere qualcosa, ma anche pensare alla soggettività che la magia ha intrinsecamente in sé, e che quindi viene richiesto non solo un grado di comprensione del testo, ma anche un grado di manipolazione del testo per soddisfare i propri bisogni abbastanza elevato, diciamo. Ovviamente per raggiungere questo livello bisogna sperimentare, fare tante cose, sbagliare anche molto. Credo che imparare dai propri errori sia proprio fondamentale nelle tecniche magiche, perché è molto difficile che tu azzecchi il procedimento di un incantesimo al primo colpo. Non nel senso che stai facendo qualcosa di sbagliato, di proibito, ma nel senso proprio che stai sbagliando l'alchimia degli elementi con la tua energia, e che quindi qualcosa non funziona. Per esempio per fare protezione si possono usare tantissime erbe, la salvia bianca, la salvia normale, il rosmarino, e tu scegli la pianta che più si addice a te, non quella che ti dice quel libro, piuttosto che l'altro. Ciò non vuol dire, attenzione, che non sia importante leggere tanti libri e imparare dai quei libri, assolutamente no, è una cosa fondamentale. Però è importante anche praticare per imparare, quindi sono due cose che devono andare di pari passo. Inoltre bisogna capire che per fare un incantesimo non basta fare quella cosa lì, seguire il procedimento e modificarlo come volete voi, ma dovete proprio metterci il vostro intento dentro quella spelgiare. Perché anche se io azzecco l'alchimia degli elementi con la mia energia, se io non metto il mio intento lì dentro, attivamente, quell'incantesimo non funziona. Quindi non solo due spelgiare identiche fatte da due persone diverse non funzionano allo stesso modo perché appunto le persone sono diverse, quindi l'energia infusa è diversa, ma proprio anche perché l'intento che si vuole dare alla stessa spelgiare è differente. Un'altra cosa da tenere bene a mente è che la magia lavora tramite intento, quindi se tu vuoi fare qualcosa, succede. Ma la magia anche ha voglia di manifestarsi, quindi se vede uno spiraglio in te si farà largo e diventerà sempre più grossa la manifestazione di questa magia. È un po' come quando tu hai un buco su una maglia e se lo lasci stare rimane lì, però se tu inizi a metterci il dito dentro diventa sempre più largo e la tentazione è grossa di mettersi dentro il dito. La magia un po' funziona così. È per questo che noi ci spieghiamo l'utilizzo di certi strumenti da parte di persone che non credono assolutamente in queste cose, che però funziona, ha dei risvolti magici. Facciamo un esempio per capire meglio. Spesso sentiamo di persone che utilizzano la tavola Ouija, di cui fra l'altro ho fatto un video qua sopra dove spiego le origini e il perché funziona sia a livello scientifico che a livello magico. Sentiamo di questi gruppi di persone che solo per gioco comprano una tavola Ouija e la fanno. Non proprio perché credano nei fantasmi, anzi, loro la fanno proprio per dire guarda questa cavolata, questa scemenza, la facciamo e non succederà nulla. Però mentre la fai, o poco prima di farla, hai il dubbio di quella cosa possa funzionare. E se il dubbio esiste, allora la tavola, visto che è un mezzo molto potente, se ci credete in queste cose, la magia entrerà da quel piccolo dubbio che voi avete e farà funzionare la tavola. E' anche per questo che questo tipo di strumenti è molto pericoloso, perché non ci vuole tanta pratica per farlo funzionare, anzi, è uno strumento talmente potente che funziona anche con chi è solo dubbioso e non ci crede generalmente in queste cose, ma ha grossi risvolti e tanto studio dietro per farla funzionare bene in maniera sicura. Quindi questo video vuole essere sia un avviso per le persone che non credono nella magia ma ogni tanto vogliono fare qualcosa di magia per vedere se è una cavolata o meno, ma anche per tutte le streghe novizie, quelle che io chiamo baby witch, in maniera ovviamente affettuosa, che hanno tante informazioni davanti a loro, tante cose da studiare e che spesso dimenticano che la magia non è semplicemente seguo questo procedimento alla lettera, ma devo metterci del mio, non solo di far funzionare le cose e tutti gli ingredienti in base a quello che io sento, ma anche di inserirci attivamente la mia energia, il mio intento. E non anche aver paura di sbagliare o di mettersi in gioco o di provare tante cose diverse prima di trovare la propria strada, di non lasciarsi scoraggiare dagli innumerevoli tentativi falliti. Siete valide, dovete solo andare avanti. E oggi il video finisce qua, anche se era più breve del solito, ma credo che sia adeguato per l'intento che io volevo dare a questo video. Per qualsiasi dubbio o magari curiosità, scrivetemi qua sotto, magari se l'idea mi piace particolarmente o deve essere trattato in maniera più lunga, ci posso fare un video sopra. Io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto e il supporto che date a questo canale. Noi ci rivediamo in un prossimo video, il prossimo mercoledì. Ciao ciao bimbi belli! Ciao bimbi!